Nonostante il maltempo della mattinata di sabato, all'Istituto Cerboni si è comunque celebrata la festa degli alberi. Allora, questo è un progetto che è stato fatto l'anno scorso dalla professoressa Brighetti, che si chiama La Scuola Il Mio Giardino, e che è stato finanziato dal Parco Nazionale. Oltre al finanziamento del Parco, che ci ha permesso quest'estate di piantare tante piante e anche alcuni alberi, Abbiamo avuto anche un omaggio dal Comune di Portoferraio, un bel platano grande che sarà piantumato oggi, e anche un corbezzolo da Italia Nostra. Quindi mi sento di esprimere, prima di tutto, soddisfazione, perché l'esterno della scuola sta cambiando connotato. E poi di ringraziare gli enti, grazie, e soprattutto alla professoressa Brighetti, che è un'insegnante che crede molto in queste cose, che con passione lavora con i ragazzi, per questo, e comunque in generale anche a tutta la scuola, perché tutti hanno collaborato. Amo molto le piante, e credo che le piante rappresentino una possibilità per i ragazzi di vivere meglio, di stare meglio a scuola, e quindi un ambiente bello, sano, positivo, dove imparano anche la cura di questi nostri amici. Vivere in una scuola bella, pulita e ordinata, penso che aumenti la voglia anche di studiare e di stare bene insieme. E questo è il progetto che è iniziato e che continuerà il prossimo anno. Quindi anche quest'anno scolastico aspettiamo che ci dia l'ok il Comune per fare la piantumazione davanti all'ingresso della scuola nel piazzale. Abbiamo sette aiuole e anche queste verranno rese giardino. Grazie. Grazie a tutti.